Musica Prego, garogero, prego, venga avanti, anzi, secondi Ma come mai, mi dica, come mai questa sua visita? No, 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 non doveva, no, affatto, non doveva affatto distrubarsi C'è l'ultima volta quel vigliette della tua Rando, a proposito, uno spettacolo bellissimo, davvero, non era il caso Ah Mi chiede tutto, ma questo no Io non le chiedo niente, niente di niente Quello è l'elenco e lei sa cosa deve fare Senza che glielo dica io Ma cosa ci faccio io con tre insegnanti di educazione musicale? Oltretutto qui siamo in un vicio plastico Come posso giustificare la loro chiamata? D'altronde, non posso far diversamente, ho proprio le mani legate E poi, dopo calogero, come minimo, mi farà distruggere la macchina E, dopotutto, come posso rinunciare a tutti quegli inviti a cena spaffo e ai miglietti gratis? Ma, sì, ti se ne frega, sono un solo dirigente di questa scuola Organ collegiali? Sì, signor dirigente! Il prossimo anno si canta tutti quanti! E' bello essere dirigente Articolo 2,10 Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti Il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente Il piano è lavorato dal Collegio dei docenti Sulla base degli indirizzi per le attività della scuola E delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico Il piano è approvato dal Consiglio di Circolo o d'Istituto Il piano è un'altra scuola di circolo o d'Istituto